Benvenuto al corso relativo alla normativa sulla privacy, il decreto legislativo 196 del 2003. Il corso si articola in quattro moduli. Il primo modulo affronta i temi relativi alla normativa, partendo dalle nozioni e dai principi, fino alle sanzioni previste, passando dai soggetti e dalle misure di sicurezza. Il secondo modulo tratta il sistema sanzionatorio, mentre il terzo modulo prevede la definizione delle istruzioni per gli incaricati. Il corso è completato da documenti e contenuti relativi alla normativa in oggetto. Per visionarli basta cliccare sui link relativi nell'apposita sezione del corso. Alla fine del corso sarà possibile accedere ad un test di verifica, al superamento del quale verrà rilasciato l'attestato di frequenza. Modulo 1. La normativa. In questo modulo affronteremo nozioni e principi di base, gli adempimenti previsti dal codice, i soggetti della privacy, le misure di sicurezza, le disposizioni per settori, i diritti dell'interessato, la tutela dell'interessato, le sanzioni previste. Il 27 giugno del 2003 con decreto legislativo 196 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il codice di protezione dei dati personali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 2003. Il codice si suddivide in tre parti. Parte prima, disposizioni generali che individuano le regole sostanziali per il trattamento dei dati personali e che si applicano a tutti i trattamenti. Parte seconda, disposizioni relative a specifici settori, sanitario, istruzione, lavoro, bancario, comunicazioni elettroniche e così via. Parte terza, tutela dell'interessato sanzioni.